Per chi vanta crediti con la pubblica amministrazione, stop alle cartelle Equitalia. Con il progetto Punto Zero stiamo difendendo il nostro ambiente, la nostra terra, la salute dei nostri figli. A Ragusa lo scorso anno i cittadini non hanno pagato la Tasi. 10 milioni di euro per la salute dei neonati. Finalmente tagliati i vitalizi e i doppi stipendi. No alla Tasi e a Equitalia e finalmente dopo 30 anni la verifica di coerenza per il piano urbanistico comunale. Questa norma ad esempio ha permesso la decadenza di Sibbio Berlusconi. Le auto blu tolte alla cassa verranno assegnate alle forze dell'ordine. Ridotto di 1,5 milioni di euro lo stipendio ai dirigenti delle partecipate. Ottenuti maggiori risparmi per i cittadini e creati 340.000 posti di lavoro. L'ospitalità diffusa e orizzontale per borghi e centri storici. Risparmiati più di 32 milioni di euro in tutta Italia con uno stop agli articchi d'oro. Libri digitali gratuiti per gli studenti. 8 per mille all'edilizia scolastica. Chi prende i contributi pubblici e quelli da localizza deve restituire i soldi presi. Ottenuto monitoraggio delle malformazioni congenite in tutta la regione Puglia e monitoraggio dei tumori con lo studio Sentieri in tutta la regione Campania. Agevolazione estese da 4-5 anni, firma digitale per aprire un'impresa. Tutta l'attività della Commissione di Vigilanza Rai sul sito del Parlamento Italiano. Mai successo prima. Adesso provate a pensare un attimo. Se governassimo noi cosa faremo? Grazie. 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 Grazie.